Questa mi fa pensare, mi scusi eh? La mia vita è la mia vita. 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 Non posso chiedere niente di grave. Lo dici tu. Vedi lo sputnik roteando nella stratosfera. È sempre soggetto alla frazione terrestre. Può cadere e può provocare dei disastri. Attraversando l'atmosfera si disintegra. Non sono d'accordo con lei. Io nemmeno. Anche allora non sono d'accordo. Ma certamente. Questo misile, questo sputnik, come lo chiamate voi, cadendo può provocare dei disastri. Ammettiamo per caso che lei sta col naso per aria, si sente arrivare uno sputnik in un occhio. Cosa dice? Chi è che ha sputato nel occhio il signore? Io no. Nemmeno io. Scusi, non fuggiamo l'onore di parlare. Non faccia caso, siamo due gentili uomini di passaggio. Come si usa così. Ehi. Ehi! Iti, andiamo! Ehi. Quilippo! Chissimo! Qual è? Awave! È un migliore. Olo! Ehi! Ehi. Olo! Ehi. Grazie a tutti.